Con Medicine di Gruppo Integrate si definisce una nuova organizzazione della medicina generale basata su forme aggregate di professionisti del territorio che lavorano insieme per la salute della comunità e delle persone. L'obiettivo è nobile, si vorrebbe nelle intenzioni dare una risposta più adeguata ai diversi bisogni di salute dei cittadini. L'anziana che non può andare dal medico di base per esempio, ma non solo, il professionista che non può adattarsi agli orari sempre più stretti degli ambulatori e gli ambulatori che devono essere più vicini a livello territoriale. Nel Bassanese le medicine di gruppo fanno fatica a decollare e allora, sposando la proposta lanciata da Rete Veneta, la conferenza dei sindaci dell'Ulss ha proposto di avvalersi di medici dipendenti direttamente dall'azienda sanitaria e che, a differenza di altri dottori, devono rispondere a un diretto superiore e a determinati standard qualitativi. E i cittadini bassanesi come la pensano? Il medico di base secondo me adesso non serve più a niente se non per le ricette, perché non ti visitano neanche, a casa non vengono più, anche se hai i 42 di febbre. Non so se diventando dipendenti dell'Ulss sarebbero un attimo più attivi. Avere magari un po' meno pazienti e seguire di più i pazienti che si hanno. Penso sotto l'Ulss perché quando hanno troppe cose libere dopo la base va a ramingo. Beh, direi più sotto un direttore generale, comunque un coordinatore. Perché secondo lei è meglio avere un capo? Perché questo può permettere una migliore gestione sia delle risorse e fare anche sinergie. Personalmente alle dipendenze dell'Ulss, così ci sono meno problemi, diciamo, è un ruolo specifico all'interno delle aziende sanitarie. Io condivido. Questa è l'opinione dei cittadini che evidentemente ritengono il servizio una priorità. medicine di gruppo vicine a disposizione del territorio e con costi ragionevoli. Il 18 luglio l'assessore Coletto e i presidenti delle conferenze dei sindaci delle varie Ulss si ritroveranno. La proposta è sul tavolo. Vedremo se verrà accolta.